Manca il numero legale in consiglio, proprio sull'ordine del giorno in cui il consigliere comunale di Chieti, di Fratelli d'Italia Marco Di Paolo, invita il sindaco di Primio a impegnarsi a chiedere alla regione Abruzzo la modifica dell'iter per l'assegnazione degli alloggi popolari. In particolare la questione riguarderebbe soprattutto gli extracomunitari e pare siano volate parole grosse in consiglio come xenofobo, eccetera, di Paolo dal canto suo rivendica la buona fede. Innanzitutto metto in discussione la legge 96-96, una legge regionale che dà le caratteristiche per l'assegnazione dei casi popolari e anche i requisiti per poterle ottenere. In prima istanza per stare in graduatoria per l'assegnazione dei casi popolari basta semplicemente un'autocertificazione. Parlo per tutti i cittadini italiani e extracomunitari, gli individui portano inizialmente per stare in graduatoria solamente un'autocertificazione, attraverso questa autocertificazione si entra in graduatoria. Nel momento in cui viene chiamato il primo della graduatoria si fa di fatto la verifica di tutto ciò che è stato dichiarato. Sta di fatto che gli italiani vengono verificati di fatto tutto ciò che viene autocertificato perché gli strumenti ce li abbiamo. Mentre invece per quanto riguarda gli stranieri non abbiamo la possibilità, gli strumenti perlomeno detti da loro, perché possa certificare tutto ciò che è stato dichiarato. Insomma Di Paolo chiede dei documenti preventivi agli extracomunitari. Non è d'accordo Enrico Raimondi di Chieti Punto da Capo. Ma è un'iniziativa che io non ho condiviso nell'intervento in Consiglio Comunale, stampo decisamente discriminatorio e razzista. Peraltro è un tentativo di non far discutere il Consiglio Comunale dei veri problemi che ha questa città. Chiusura di asili nido, la mancanza di trasporto scolastico, la vendita di quasi tutti gli immobili comunali per salvare una situazione di sesto finanziario. Quindi un'iniziativa strumentale perfettamente inutile e che dimostra come ci sia ancora una mentalità che speravo superata nel nostro Consiglio Comunale di chi ritiene che vi siano persone di serie A, cioè i cittadini italiani, e persone di serie B, cioè gli extracomunitari. Se ne tornerà a parlare in Consiglio Comunale previsto a Chieti per il prossimo 18 marzo.